Annunci di ricerca agenti. Le aziende che cercano nuovi agenti di commercio. Annunci di ricerca agenti. OnTeam. OnTeam, agenzia team business e consumer, seleziona in tutta Italia consulenti junior o senior per attività di promozione dei servizi team ad aziende e privati. La vendita dei prodotti team avviene tramite attività autonoma ed è prevista la possibilità di avere in assegnazione un portafoglio clienti da presidiare dopo percorso di certificazione in team. Il compenso è composto da un fisso mensile più provvigioni. La provenienza dal settore è considerato titolo preferenziale. Se sei interessato, vai sul sito radioagenti.it e clicca su OnTeam, agenti. Annunci di ricerca agenti. Astra. Astra, solidarietà in movimento, è una società che si occupa di comunicazione e promozioni legate al sociale, in collaborazione con comuni ed associazioni per progetti istituzionali ed ufficiali. Per lo sviluppo della rete vendita, ricerca e seleziona agenti di commercio e incaricati alle vendite, senza limiti di età, nelle regioni Veneto-Lombardia. Si offre un sistema provvigionale superiore alla media, possibilità di carriera, premi mensili al raggiungimento obiettivi, appuntamenti fissati direttamente da personale specializzato interno all'azienda. Se sei interessato, vai sul sito radioagenti.it e clicca su Astra. Avete ascoltato? Annunci di ricerca agenti. Radioagenti.it, passione per la vendita. Radioagenti.it, passione per la vendita.it.it.it, passione per la vendita.it.it. Obiettivo agenti.it.it, passione per la vendita.it.it.it.it. Il vostro lavoro, il nostro obiettivo.it.it.it.it.it.it." Oggi stranamente di mercoledì ma un po' inebriati dal vino dell'avvocato Bianchi che mi stava confidando prima a microfoni spenti che sta facendo un vino spettacolare però non abbiamo ancora il marchio, non abbiamo ancora il nome, abbiamo l'uva, abbiamo il vigneto e tutto ma avremo modo di parlarne nelle puntate seguenti perché probabilmente è alla ricerca di agenti di commercio che possano vendere e portare... no? Non cerca agenti di commercio? Io cerco solo procacciatori Rigorosamente procacciatori da fare con il contratto Iniziamo con una battuta, oggi mercoledì 6 ottobre, non giovedì come di solito facciamo con i nostri legali per impegni, i miei impegni personali, quindi oggi la facciamo di mercoledì la puntata salutiamo l'avvocato Valerio Collapaoli che non c'è Allora, tema della puntata, un tema interessante, indennità di fine rapporto è sempre molto gettonato come argomento le indennità di fine rapporto in questo caso parleremo di indennità di fine rapporto in contratto a tempo determinato cioè come funziona? Allora, già di per sé personalmente ritengo il contratto a tempo determinato un po' una contraddizione con un sano rapporto di agenzia ma questo è un mio parere personale chi segue radioagenti lo sa, la mia filosofia è quella che se un'azienda è seria e buona se un'agente è serio e buono, assolutamente, plurimandatario possibilmente anche con qualche azienda in parziale concorrenza non c'è problema ma la conoscenza del mercato di un agente di commercio top è tutto quello che secondo me un'azienda... E quando non sono serie che forse il tempo determinato è più utile Ah, infatti questa cosa la affronteremo perché sovente, lo dice anche a me, abbiamo avuto modo spesso di parlarne e ne parleremo oggi quindi parleremo di contratti a tempo determinato quindi se il contratto cessa alla scadenza senza rinnovo sono dovute o meno delle indennità perché le indennità le legheremo appunto al contratto a tempo determinato se invece il contratto si rinnova per un breve periodo e poi cessa sono dovute le indennità e se si rinnova di volta in volta ma sempre a tempo determinato cosa succede anche con le indennità? Insomma, un'occasione anche per parlare di indennità tutto tondo e per affrontare gli aspetti che chi passa tutto il tempo a vendere qualche volta magari ignora e noi qui da Radioagenti oggi con il supporto dell'Avvocato Lorenzo Bianchi siamo qui per cercare di diminuire un po' di quel gap e quindi sapere che cosa succede che dice Avvocato Bianchi? Ci riusciremo? Partiamo con la trasmissione Sì, certo Prego di no Buongiorno a tutti Buongiorno Sono un rappresentante Noi vogliamo, vogliamo semplicemente poter lavorare in modo dignitoso Non tutti apprezzano l'esperienza È giusto che vengano completamente addebitate all'azienda mandante anche perché adesso la mandante mi richiede in unica soluzione C'è anche danno di immagine a quel punto Grazie per la trasmissione, siete veramente formidabili Grazie di questa opportunità Vedi, quel numerino che scorre a video che parte a giorni 10, 9, 8, 7 è inutile che guarda Lei ha l'opportunità di vedere sul monitor siamo pronti per ripartire e ripartiamo E oggi partiamo alla grande Avvocato Bianchi perché Michele ci fa una domanda che so che lei apprezzerà tantissimo La faccio subito così, prima di qualsiasi cosa e Michele ci dice Quali requisiti servono per poter chiedere in Nasarco un anticipo del TFR? Grazie Michele da Brescia Non so se vuole insultare Michele come è solito fare quando le domande sono malposte No evidentemente non ci ha mai ascoltato No bene, Michele, allora solo rapidamente tieni presente che A. Non è il TFR, quindi parliamo di FIR perché il TFR è per i lavoratori dipendenti mentre il FIR è per gli agenti rappresentanti di commercio B. I requisiti per chiedere l'anticipo del FIR in Nasarco l'anticipo te lo puoi anche scordare perché è stata raccontata la favola dell'anticipo del TFR da tanto, 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 tanto tempo ma ancora non si è realizzata per mille motivi che se vai a vederti i nostri podcast e trovi appunto alcune puntate dove proprio partiamo della promessa che era stata fatta di fare l'anticipo del FIR questa non si è trasformata ancora in realtà per mille motivi che non sto qui a dirti Michele però è un'occasione per ricordare che potete naturalmente A. Scaricare la nostra app per ascoltarci in diretta quindi la app è la app di Radioagenti potete scaricarla sia dall'App Store che dal Play Store potete seguire le nostre dirette e non solo anche i podcast sulla nostra pagina Facebook la pagina Facebook di Radioagenti dove andiamo in diretta video dove i video sono anche poi riguardabili e riascoltabili successivamente oppure potete farlo dal nostro canale YouTube dove potete anche iscrivervi se volete ricevere le notifiche delle dirette quanto partono perché andiamo in diretta su entrambi i canali anche in video e quindi se volete farlo questa è un'occasione sul nostro sito potete andare a ricercare tutti i podcast sono oltre 500 puntate di obiettivo agenti e molto presto metteremo un motore di ricerca che vi consentirà di trovare le puntate anche per argomento per noi il fatto che va verificato che ci sia il FIR in Nasarco perché si aspira a qualcosa che magari neppure è stato versato sì, no, ecco, allora intendiamoci è Nasarco, ha e costruisce il FIR di tutti gli agenti di commercio e attualmente non è in pericolo questo naturalmente da un punto di vista finanziario mettiamola così perché non vogliamo essere malinterpretati ma naturalmente Michele puoi verificare nella tua area riservata se c'è il FIR versato quindi se l'azienda, ricordiamolo, ha versato il FIR si versa una volta l'anno entro il marzo dell'anno successivo entro il marzo dell'anno successivo e vabbè, spieghi lei se vuole questa cosa e si va in area riservata si accede quindi e si può controllare che il mandante abbia puntualmente versato il FIR annualmente è appunto relativo alla posizione alla nostra posizione alla vostra posizione e può essere richiesto naturalmente non un anticipo perché non c'è nessun anticipo da richiedere in questo momento non è attiva nessuna procedura ma puoi eventualmente richiedere il FIR solo e soltanto nel momento in cui il mandato è cessato anche a mandato è cessato tu puoi richiedere il FIR naturalmente e Nasarco chiederà all'azienda mandante se ci sono delle cause ostative affinché tu possa ritirare il FIR perché ricordiamo in alcuni casi ci sono alcuni dei contratti quello dell'industria nello specifico consente addirittura all'azienda di mettere un veto per rilasciare il FIR in presenza di alcuni appunto motivi gravi concorrenza sleana esatto nella concorrenza sleana non so se vuol dire qualcosa visto che ci siamo passati così volando hanno passato no il FIR l'abbiamo trattato tante volte e io andrei a tanto ci ritorniamo perché siamo l'argomento di oggi era solo come aveva posto il quesito come dice lei di solito un mal posto chiamandolo TFR ma in questo caso non è mal posto qui è proprio non era da porre allora non era da porre allora ricordiamolo Michele comunque rimani connesso che adesso tratteremo e parleremo anche di quello quindi tema della puntata indennità di fine rapporto in caso di contratto a tempo determinato come funziona ma prima sappiamo che cosa dobbiamo fare dobbiamo fare il quizetto il quizetto per vincere la tazza di radioagenti il quizetto è fantastico senta mi promette che quando farà il suo vino farà dei bicchieri con il suo marchio e mi farà dare i suoi bicchieri in omaggio se rispondono al quizetto dipende dal non vorrei pregiudicare i soldi avvocato bianco l'immagine del prodotto quindi adesso vediamo ah ok lei non vorrebbe accostare il suo marchio al marchio di radioagenti mi sembra va bene d'accordo io credo che questo sia passibile di un procedimento di una querela non lo so vedremo andiamo avanti andiamo avanti allora per vincere la tazza di radioagenti oggi abbiamo un quizetto un quizetto è il seguente allora attenzione in caso di malattia o infortunio dell'agente l'azienda oppure l'agente stesso possono richiedere la sospensione del mandato di agenzia e questa è la risposta che già diamo noi quindi nel caso di malattia o infortunio l'azienda o l'agente possono richiedere la sospensione del mandato ma quello che vogliamo sapere è per quanto tempo si può sospendere il mandato di agenzia in caso di malattia o infortunio è malposta così è malposta la durata massima della sospensione vogliamo sapere ah vogliamo sapere ok quindi la durata massima della sospensione per quanto tempo lo decidono le parti va bene qual è la durata massima della sospensione insiste nel malporre ok insisto nel malporre lo sa io malpongo di mestiere quindi oltre a fare l'agente di commercio il conduttore e il celtrone malpongo anche questo è allora mandate il vostro messaggio tramite whatsapp la vostra risposta il nostro numero di whatsapp come sempre 329 672 5562 ripeto 329 672 5562 e il quizetto è appunto per quanto tempo al massimo può durare la sospensione del mandato di agenzia senza essere trasformato in disdetta senza necessità di disdetta va bene lo possiamo dire quindi è una sospensione è una sospensione quanto tempo durerà può durare al massimo questa sospensione? al massimo al massimo Lorenzo Massimo Davide questo è allora andiamo è una cosa oggi proprio chiedo scusa perché non abolisce questa Edoardo Pino Luciano Alex Bino Carlo tutti quelli che ci hanno già scritto vi chiediamo scusa prego perché non abolisce questa rubrica è bellissima regaliamo la tazza di radio agenti o aumenta il premio oltre la tazza di radio agenti lei se è disponibile faccia una donazione una cassa di tazze le faccio presente che quando facciamo così crollano gli ascolti quindi andiamo al dunque andiamo avanti andiamo avanti e iniziamo leggendo appunto il messaggio di Pietro il nostro ascoltatore che ci ha mandato un messaggio tramite Whatsapp allora e poi leggeremo appunto i vostri messaggi che stanno continuando ad arrivare non vi fermate nostro numero di Whatsapp 329 672 5562 come ha fatto Pietro che c'è appunto scritto ho un accordo scritto per segnalazione su zone definite con provvigione definita l'accordo è a tempo determinato durata di 18 mesi quindi un anno e mezzo con possibilità di rinnovo i compiti che sono specificati nel mandato sono individuazione dei clienti presenziale ad ogni fase successiva affiancamento del tecnico commerciale durante la presentazione aziendale e dei prodotti stesura del preventivo e chiusura contrattuale allora le domande sono ci dice appunto Pietro alla cessazione dei 18 mesi è possibile avere una sorta di indennità per attività che è stata abbastanza continuativa per tutti i 18 mesi e con un target di fatturato da fare e che è stato fatto e poi se è prevista vi sono prescrizioni riguardo la tempistica per richiederla questo era il messaggio di Pietro col quale abbiamo introdotto l'argomento quindi non so lascio a lei un po' la lascia un po' intendere come se tra le parti sussistesse un rapporto di procacciamento perché in un paio di passaggi ha usato il termine segnalazione, segnalare continuità quindi stabilità di relazione è come se fosse un rapporto non correttamente formalizzato ma questo lasciamolo da parte beh però io questo spunto che lei mi ha dato avvocato Bianchi del fatto del procacciamento procacciamento poi dopo magari lo riprendiamo andando a vedere se in caso di contratto di procacciamento possono essere tutte le indennità ma in coda se ne abbiamo tempo insomma rimaniamo sul quesito di Pietro prego sì la risposta è sì il nostro ascoltatore può chiedere un'indenità di fine rapporto non una può chiedere che sia applicata la disciplina del fine rapporto perché poi sappiamo che la legge prevede un'unica indennità la contrattazione collettiva ne prevede tre e magari le ricorderemo più avanti in breve questo perché? perché il rapporto di agenzia di durata determinata ha la stesse ha gli stessi istituti del rapporto di agenzia di durata indeterminata naturalmente naturalmente unica eccezione è quella relativa al preavviso perché il rapporto di durata determinata non ha bisogno di preavviso per il fine di cessazione per il caso di cessazione del rapporto perché? perché naturalmente sappiamo che se stipuliamo un contratto della durata di 18 mesi all'ospirare del diciottesimo mese il rapporto va a concludersi diversamente è il caso del rapporto di durata indeterminata quando una delle due parti lo vuole sciogliere deve dare all'altra parte il preavviso affinché naturalmente l'altra parte possa organizzarsi per le sostituzioni del caso quindi stesse identiche discipline unica eccezione è quella che riguarda il preavviso quindi anche il rapporto di durata determinata ha diritto alle classiche tra virgolette indennità al classico trattamento di fine rapporto che compete all'agente che ha un contratto di durata indeterminata ok ma mi viene in mente il fatto nel momento stesso in cui c'è appunto un rapporto a tempo determinato e questo termo in questo tempo termina come vado sostanzialmente a calcolare le indennità cioè mi spiego noi sappiamo che ci sono diversi tipi di indennità no? ci sono allora il FIR è appunto l'indennità prevista dagli accordi economici se vuole ed è una percentuale sulle provvigioni ed è una percentuale sulle provvigioni l'indennità di clientela anch'essa è una percentuale sulle provvigioni l'indennità meritocratica l'indennità meritocratica sussiste solo se c'è un incremento quindi bisognerà fare un calcolo matematico diverso ma tendenzialmente se io ho maturato in 18 mesi X provvigioni andrò a applicare le percentuali collettive su quelle provvigioni che mi sono state vagate quindi non c'è un grandissimo problema né giuridico né matematico e semmai possiamo ragionare sulla sussistenza del diritto indennitario di legge che è un'altra questione completamente perché lo ricordiamo la legge ci dice che alla cessazione del rapporto spetta l'indennità alla gente meritevole la gente ossia la gente che abbia sensibilmente sviluppato gli affari o procurato nuovi clienti e il mandante goda ancora di questi affari qualora sussistano queste circostanze alla gente che è stato bravo nell'arco temporale dei 18 mesi di durata contrattuale non può essere impedita impedito il riconoscimento di questo indennizzo meritocratico di legge quindi se nell'arco dei 18 mesi la gente ha effettivamente incrementato ha procurato nuovi clienti perché non può essergli riconosciuta questo merito di legge non c'è una negazione quindi assolutamente sì anche al rapporto di durata determinata si applica la consueta analisi indennitaria che si svolge ogni qual volta c'è un rapporto di agenzia ripeto sia esso di durata indeterminata sia esso di durata determinata non c'è alcun problema l'unica questione che non si applica al rapporto di durata determinata è quello del preavviso ok però mi viene in mente la meritocratica avvocato Bianchi cioè noi sappiamo che l'indennità meritocratica cerco di semplificare lei poi mi corregga laddove dovessi sbagliare alcuni vocabili è data e viene riconosciuta al termine del rapporto del mandato su iniziativa della mandante o per pensionamento stanno arrivando tantissime domande sulla pensione adesso le affronteremo tutte sempre in merito al discorso indennitario se l'agente è stato bravo sappiamo che se l'agente è stato bravo va sostanzialmente dimostrato come si dimostra in un contratto a tempo determinato se l'agente è stato bravo nello stesso modo quindi elenco clienti ci dà una mano ad analizzare cosa dovrebbe fare perché sa un agente di commercio che lavora per un'azienda immagino io per 5-10 per molti anni un'analisi di quello che è stato il suo lavoro se è stato bravo e quant'altro la vedo magari sbaglio ripeto più semplice rispetto di un agente di commercio che invece è stato semplicemente in un contratto a tempo determinato faccio il caso di Pietro il nostro ascoltatore 18 mesi cioè come faccio a dimostrare guarda io sono stato bravo perché ho fatto 5 clienti nuovi 10 clienti nuovi o quel che è insomma se abbiamo qualche consiglio per i nostri ascoltatori certo ma il documento principale di partenza per questo ragionamento è sempre lo stesso cioè l'elenco clienti prima di nel momento stesso in cui parto o poi parla dell'estratto conto provvigionale l'estratto conto provvigionale allora tenga presente una cosa con l'avvocato Biac sono io che interrogo ok lei risponde se lei mi fa le domande poi mi mette in crisi però mi dai là per ricordare il quizetto di oggi molto rapidamente tanto lei non mi perde il filo vero avvocato perfetto allora il quizetto di oggi per vincere la tazza di radioagenti è appunto riferito al malattia e infortunio dell'agente allora per quanto tempo al massimo può durare una sospensione una sospensione del mandato di agenzia in caso di infortunio o malattia dell'agente adesso me lo devo scrivere se no adesso ce l'ho fatta ricordarmelo poi no ok è un tempo si misura in mesi quindi un mese tre mesi sei mesi dodici mesi ventiquattro mesi per quanto tempo un agente che non può andare a lavorare sostanzialmente per problemi di malattia o infortunio può essere sospeso senza perdere il se lo richiede o lo può richiedere anche l'azienda senza perdere appunto il suo mandato di agenzia mandate la vostra risposta al 329 672 5562 prego avvocato bianchi riprenda da dove vuole un giorno faremo una puntata dedicata all'estratto conto provvigionale perché questo documento abbraccia a 360 gradi l'intero mondo agenziale un giorno faremo una discussione approfondita assolutamente si troviamo magari il modo per poterlo analizzare perché l'estratto conto provvigionale è quel documento di fatto da dove poi scaturisce la fattura provvigionale rispetto al mondo variegato degli agenti di commercio e vario la nostra redazione dice che abbiamo preso nota che faremo questa puntata quindi la stresseranno è uno di quei documenti che tecnicamente accomuna tutti gli agenti di commercio cioè indipendentemente da quello che si vende è la fotografia periodica trimestrale se non mensile quanto meno trimestrale se non mensile del lavoro svolto nel periodo di riferimento dall'agente di commercio perché perché l'estratto conto riepiloga tutti gli affari conclusi e andati a buon fine talvolta anche quelli in parziale buon fino da concludersi tra l'altro ci sono un paio di domande su quegli affari ancora da concludersi legati all'indennità ma ci sono quindi i nominativi dei clienti quindi stavamo parlando per riepilogare mi sta diciamo stavamo vedendo come dimostrare il merito come dimostrare che l'agente è stato bravo partiamo dall'estratto conto provvigionale stavamo dicendo che quindi l'estratto conto indica i clienti fatturati i tempi modi eccetera eccetera quindi già ci dà una prova importante di quello che è stato il lavoro dell'agente nei 18 mesi per ritornare al caso del nostro ascoltatore se questo documento non fosse sufficiente beh si potrà chiedere all'azienda cara azienda fammi vedere qual era la situazione prima che sia stato instaurato il nostro rapporto oppure se ancora non fosse sufficiente fammi vedere la situazione attuale cioè una volta che abbiamo chiuso la nostra relazione qual è la situazione del territorio che mi hai assegnato questi sono i documenti principali da cui dedurre se i clienti sono nuovi se i clienti hanno comprato di più rispetto alle medie passate quindi ci danno gli elementi fondamentali per ragionare sulla sussistenza di questo merito di legge non solo ci sono tanti altri criteri da considerare ragionare sul diritto all'indenità di legge sembra complesso ma in realtà sarebbe molto semplice perché la norma si fonda sull'equità equità vuol dire giustizia nel caso concreto e quindi questi ragionamenti non possono essere standardizzati ogni rapporto di agenzia avrà la sua equità e quindi ogni rapporto di agenzia avrà o meno la sua applicazione dell'indenità di legge faccio un altro esempio un rapporto di agenzia che ha avuto una durata ventennale ultraventennale già lascia intendere già lascia presumere che la gente abbia maturato i meriti è vero verissimo perché un rapporto di così ampia durata vuol dire che le parti si sono piaciute hanno raggiunto con soddisfazione per vent'anni non è una cosa semplice assolutamente diversamente un rapporto di breve durata già lascia intendere l'insussistenza dei presupposti di legge perché è difficile andare a sostenere e anche a dimostrare che in un rapporto di un anno un anno e mezzo come nel nostro caso ci siano stati questi sensibili sviluppi di fatturato attenzione poi la legge si che era un po' la mia idea usa proprio l'avverbio sensibilmente che vuol dire sensibilmente vuol dire uno sviluppo di un terzo del doppio del triplo del quinto del fatturato che si è con cui si è partiti ci sono tante interpretazioni tanti ragionamenti da fare che vengono ulteriormente come dire suddivisi a seconda del mercato di riferimento perché ogni mercato ha le sue evoluzioni agenziali e anche soprattutto di fatturato guardiamo facciamo un esempio stupido il mercato domenico subito infatti buongiorno vorrei chiedervi in quali casi la mandante è dovuto il pagamento dell'indemnita meritocratica quello che stiamo dicendo domenico facciamo il caso del gel del gel ha avuto un'esplosione l'anno scorso a seguito del covid e quindi sicuramente vi sarà stato un boom della vendita e quindi già chi promuoveva la gente che promuoveva questi prodotti già presumibilmente può vantare il diritto all'indemnità di legge poi ci sarà dall'altra parte l'azienda mandante che dirà no alt allora le vendite sono incrementate non per la tua bravura ma a causa del virus magari io ho fatto pubblicità e quindi sono stato il primo ad andare nelle farmacie quindi ci sono tutte queste circostanze da tenere in considerazione fermo il fatto di non secondaria importanza che se mai si è arrivati a un accordo circa la sussistenza del diritto poi il problema reale è quantificarlo questo diritto perché se è stato bravo in misura di 1, 20, 10, 100 perché sappiamo che la legge non ci dice a quanto ammonta esattamente l'indenità la legge ci dà un parametro da un euro a un anno di provvigioni hai voglia a discutere e quindi se anche quindi ripeto le parti fossero d'accordo nel dire ok sei stato bravo ti do questa indennità in che misura te la do e lì ripeto ci vuole tanta ragionevolezza se no si finisce a litigare in tribunale quindi mi pare di capire nel rispondere a Domenico e tanti altri ascoltatori che chiedono appunto ma come si calcola l'indenità come funziona il calcolo che nel caso specifico dell'indenità di legge l'indenità di legge meritocratica è la stessa cosa mi aiuti anche su questo o è leggermente diversa può essere leggermente diversa utilizzo la formula dubitativa perché perché impropriamente alcuni chiamano l'indenità di legge l'indenità europea o intendono l'indenità meritocratica chiariamo subito che merito è proprio quello che ci dice la legge cioè deve sussistere il merito e qual è il merito novità di clientele sensibile sviluppo degli affari se ci sono queste circostanze si può aspirare al merito quindi novità di clientela sono sostanzialmente clienti nuovi sensibile sviluppo degli affari non ci dice quanto incremento di fatturato fatturavi 100 hai fatturato 100 più qualcosa non più qualcosa deve essere sensibile esatto però mi pare di capire le faccio questa domanda e poi la lascio finire che non c'è una percentuale come magari siamo abituati a vedere della diminuzione provvigionale secondo gli accordi per dire se diminuisco le provvigioni di una percentuale maggiore al 20% allora succede quest'altra cosa quindi lei mi conferma che la meritocratica cioè per sapere se siamo stati bravi non c'è una formula matematica ci saranno delle consuetudini ci saranno delle sentenze ci saranno degli usi del mercato ci sono dei parametri che vanno su cui bisogna ragionare e ci vuole tanta buona volontà se no lo ripeto si finisce in tribunale mentre dall'altra parte gli accordi economici collettivi che hanno che stabiliscono in favore della gente numero 3 indennità cioè FIR indennità di clientela e indennità di clientela meritocratica ecco forse per capirci usiamo usiamo questi termini il FIR lo mettiamo da parte e sta in Enasarco poi esiste l'indennità di clientela ordinaria e l'indennità di clientela meritocratica l'indennità di clientela ordinaria spetterà nella misura nelle misure note diciamo note dal 3 al 4% delle provvigioni l'indennità di clientela meritocratica invece è un ragionamento matematico assurdo creato dalle parti sociali secondo cui bisogna vedere in quanto sviluppo è stato tra il periodo iniziale e il periodo finale esiste una differenza positiva si va a calcolare una percentuale di quella differenza positiva per arrivare a una quota di indennità che poi nella maggior parte dei casi tradotta in euro è ben poca cosa non stiamo parlando di cifre facciamo una cosa perché sono tanti gli ascoltatori che ci chiedono come si calcolano le indennità facciamo una puntata speciale anche magari andando a spiegare agli ascoltatori certo per radio non è proprio semplice 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 però faremo degli esempi magari dove diamo un'idea di quelle che possono essere le indennità in alcuni casi ci impegniamo a farla direi di sì assolutamente abbiamo già degli schemi abbiamo già degli schemi abbiamo tutto quindi chi volesse eventualmente essere avvisato quando faremo appunto la puntata in diretta per le indennità può mandare tramite il nostro numero di whatsapp 329 672 5562 un messaggio con scritto indennità e noi quando faremo questa puntata vi avviseremo prima affinché voi possiate seguirla in diretta e fare le vostre domande già che appunto ho dato il numero di whatsapp ripeto al volo il quizetto di oggi per vincere la tazza radioagenti per quanto tempo al massimo può durare la sospensione del mandato di agenzia in caso di malattia oppure infortunio dell'agente sempre 329 672 5562 allora Avvocato Bianchi lei ha qualcosa da terminare o vuole che inizio a leggere qualche quesito di qualche ascoltatore mi dica lei soddisfiamo soddisfacciamo proviamoci lei i quesiti degli ascoltatori no io adesso di solito lei correggere allora dunque Edoardo ci dice ah allora Edoardo ci dice in caso di acquisizione da parte di Unicredit questa è proprio fresca fresca da parte di Unicredit del Monte di Paschi di Siena e quindi di Uidiba l'indenità di fine rapporto credo che sia maturata verrà trasferita all'acquirente o potrà esserci anche liquidata quindi attenzione stiamo parlando di appunto un fatto di cui si sta parlando in questi giorni quindi il fatto che Unicredit possa appunto acquisire Monte dei Paschi di Siena e credo che Uidiba mi fido di quello che dice Edoardo sia poi la parte la unit che gestisce poi i promotori i consulenti finanziari credo quindi della banca quindi diciamo gli agenti della banca quindi in caso di acquisizione da parte di un'azienda di un'altra azienda cosa succede con l'indenità di fine rapporto maturata viene trasferita può esserci liquidata un accordo tra le parti chi compra compra tutto e quindi compra anche il credito indennitario dell'agente di commercio che viene prosegue in capo alla nuova all'acquirente quindi non v'è alcun tipo di problema perché l'acquirente formalizzerà il passaggio anche in Nasarco quindi il FIR continuerà con la matricola dell'agente di ferimento e l'anzianità fra mille anni quando cesserà il rapporto Unicredit pagherà ai promotori l'indenità sin dall'origine del loro rapporto di agenzia con Montepaschi quindi ci sarà una prosecuzione potrebbe esserci sempre lo diciamo a meno che non sia pattuito diversamente sul contratto a meno che nel momento d'acquisizione Unicredit non preferisca chiudere e riaprire e quindi in quel caso mi vengono in mente tante acquisizioni dove ci rimane sempre qualcuno col cetriolo in mano e di solito sono gli agenti di commercio in questi casi che rimangono col cetriolo nel senso che bisogna vedere e lo dico ad Edoardo che tipo di acquisizione ci sarà se faranno la Bad Company la Medium Company la Blue Company insomma però tecnicamente quando l'azienda viene acquisita prende tutto oneri e onori sostanzialmente ok certamente benissimo Edoardo vedremo comunque seguiremo non credo che compiano quelle manovre come dire un po' creative ecco creative manovre creative così friti ok va bene allora vediamo un pochino Pino ci dice buongiorno ho raggiunto la pensione IMS vorrei chiedere indennità clientela e meritocratica come si calcolano grazie allora ce n'ho qualcun'altra sempre su questo tema Luciano ci dice come funziona l'indennità di fine rapporto nel momento in cui la gente va in pensione quindi legata alla pensione e Carlo ci dice ancora sono in pensione Nasarco da più di un anno se mi dimetto ho diritto all'indennità clientela grazie allora cerco di riassumere un po' le domande sono molti gli agenti di commercio che spesso ci fanno questa domanda cioè acquisiscono il diritto ad andare appunto a poter chiedere la pensione chiedono la pensione indifferentemente a IMS a Nasarco a entrambi e di fatto vanno in pensione e cominciano a percepire la pensione però continuano a lavorare la domanda che spesso ci fanno vado un po' a memoria è ma io posso nel momento stesso in cui vado in pensione continuare a lavorare ma farmi comunque liquidare l'indennità dall'azienda e poi successivamente se questo non è possibile allora nel momento in cui io sono pensionato perché ricordiamoci che la pensione dà diritto ad acquisire l'indennità perché fermo restando il preavviso che adesso verremo proprio perché non è su nostra iniziativa nessuna iniziativa della mandante nessuna nostra però se si va in pensione si hanno diritto all'indennità e quindi qualcuno ci dice sì però nel momento in cui mi stancherò sono già pensionato però comunque continuo a lavorare nel momento in cui mi stancherò posso andare comunque in pensione le perdo le indennità come funziona ecco ci aiuti un po' a capire tutto questo diciamo spettro di domande la disciplina degli A e C la disciplina collettiva ci dice che l'agente di commercio che ha conseguito la pensione IMS o Enasarco può sciogliere il contratto e maturare il diritto all'indenità di clientela quindi prima questione bisogna aver già conseguito cioè certificata per iscritto il riconoscimento della pensione non basta aver raggiunto i requisiti bisogna proprio averla conseguita prima questione quindi attenzione non è che avendo maturato il diritto ad andare in pensione do disdetta e chiedo il pagamento perché sarebbe un errore quindi ci vuole prudenza si possono fare tanti errori a volte e lo diciamo perché proprio questa mattina è arrivato un quesito di un ascoltatore che credeva di aver raggiunto i famosi vent'anni in Enasarco e hanno visto che anziché essere vent'anni erano 19 e tre trimestri ha già chiuso la partita IVA ha già chiuso l'attività e adesso si è trovato nella condizione di dover continuare a fare dei versamenti volontari quindi sempre occhio grazie Avvocato Bianchi per aver richiamato questa attenzione agli ascoltatori nel senso prima si fa la domanda a Inso e Enasarco e poi andiamo a ragionare con l'azienda mandante tra l'altro il consiglio che diamo spesso qui che abbiamo dato nel tempo è prima si riceve il primo bonifico della pensione sul conto così si ha la certezza che non possa succedere nulla per avere prova provata di esserlo prego Avvocato quindi una volta sciolto il contratto per pensione e poi sì certo se si vuole fare un nuovo una nuova collaborazione con un'azienda piuttosto che con altra perché no lo si può fare attenzione però a quella che è la disciplina di legge perché la disciplina di legge usa termini direi completamente diversi perché dice che l'agente di commercio può matura il diritto all'indenità di fine rapporto quando lo stesso agente cessa la collaborazione per malattia o per raggiunti limiti di età per i quali non possa essere ragionevolmente chiesta la prosecuzione della lavorazione del mandato che è diverso cioè per limiti di età io tu mandante non mi puoi obbligare a continuare il mio lavoro di agenti di commercio io quindi posso darti la disdetta e mantenere l'aspettativa indennitaria che è diverso dal semplice aspetto così dire formale d'aver conseguito l'età pensionabile perché è circostanza tecnico-giuridica completamente differente perché poniamo il caso di un agente che abbia cinque mandati ha raggiunto l'età pensionabile la pensione IMS e Nasarco fa domanda benissimo e poi dà disdetta solo a una mandante o a due ma allora il principio del non può essere ragionevolmente chiesta la prosecuzione della collaborazione vale per uno non vale per l'altro attenzione attenzione perché poi in quel caso l'aspettativa indennitaria e ripeto la parola aspettativa indennitaria di cui all'articolo 1751 cioè l'indenità di legge cambia l'intero panorama anche perché se un agente va in pensione si presume che abbia avuto una collaborazione più o meno lunga col mandante e quindi ritorniamo in quelle deduzioni che dicevamo all'inizio di questa trasmissione che più è ampio il rapporto più dovrebbero sussistere i presupposti di legge e per un'ipotesi di cessazione del rapporto come abbiamo detto un secondo fa si potrebbe pregiudicare quel diritto allora provo a riepilogare con delle domande differenti così cerco di capire io vado in pensione quindi richiedo la pensione a IMSS e a Sarco e loro mi dicono ok questa è la pensione va bene quindi ho ho avuto tutti i requisiti perché ho il diritto e ho la carta che canta e ricevo la prima rata di pensione quindi vado effettivamente in pensione non ho detto nulla all'azienda mandante cioè nel senso che sono andato in pensione ma sto continuando a lavorare che cosa succede che ne lavorerò posso decidere siccome sono sicuro di dire alla mia mandante guarda cara mandante va bene io sono andato in pensione avendo conseguito la pensione avendo conseguito la pensione comunico la cessazione del nostro rapporto di agenzia con il preavviso di legge senza stare a indicare quanti sono i mesi chiedo di quanto preavviso cara mandante tu abbia bisogno perché è capace che la mandante ne abbia abbia bisogno di uno o due mesi e non tre o cinque certo e questa è una circostanza che faccio subito ma se io continuo nello specifico per esempio lei mi faceva il caso molto interessante di un plurimandatario che ha cinque aziende e quindi dice ok sai che c'è io finalmente percepisco la pensione però non voglio smettere completamente di lavorare perché mi voglio tenere attivo voglio sì andare con gli amici a giocare a boccia al bar a carte a pesca qualsiasi cosa lui abbia interesse di fare però voglio tenermi perché la pensione magari non è così impattante da un punto di vista economico voglio tenermi una o due aziende che mi impegnano meno dove la mia la mia introduzione presso la clientela la ritengo meglio remunerata piuttosto dell'azienda magari più importante che mi chiede di fare sette rapportini al giorno per cui io do una disdetta per pensione alla mia azienda principale a tre aziende e me ne tengo due questo si può fare può succedere che una delle tre mi dica no siccome tu stai continuando a lavorare io non ti pago le indennità lo potrebbe dire per il caso di presenza dell'indenità di legge non lo potrebbe dire per il caso di presenza dell'indenità degli accordi economici collettivi proprio per la circostanza giuridica che dicevamo prima ma Davide qui in realtà in ipotesi di pensionamento da quello che ultimamente si vede o meglio che vedo è che le aziende fanno una sorta non dico anzi non usiamo questi termini le aziende dicono vuoi che io passi il mandato a tuo figlio benissimo vattene in pensione dammi disdetta ma non mi chiedere il pagamento dell'indenità se no io al mandato a tuo figlio non lo do questo è un problema che si vede con una certa frequenza e che va risolto con le buone con la ragionevolezza allora prendo questa sua diciamo questa sua citazione di qualcosa che le sarà accaduto e che avrà visto sul marciapiede perché ricordiamo l'avvocato Lorenzo Bianchi è avvocato da marciapiede assolutamente nel senso che va proprio a lottare con il coltello tra i denti e con la sua diciamo prestanza fisica anche diciamolo pure con il sorriso magico ah con il sorriso magico perfetto e cosa succede? allora le faccio una domanda e le dico prima cosa ad un agente di commercio che non ha figli che ha cinque mandati che vuole realizzare il fatto di togliere tre aziende e percepire tutte quelle che sono le indennità magari non ci sono degli accordi economici collettivi richiamati sul contratto quindi l'indennità sarà quella di legge mi corregga se sbaglio come si comporterebbe? che consiglio gli darebbe? se fossi io vengo da lei e gli dico guardi avvocato ho due aziende le voglio tenere queste tre voglio sostanzialmente che mi vengano liquidate tutte le indennità potrebbe essere il caso di dire le disdici tutte e cinque e magari con le due che vuoi tenere fai un ulteriore contratto oppure aspetta che consiglio darebbe? che deve fare un agente in questa situazione? e poi passiamo a quella del figlio decide assolutamente quello che preferisce se vuole dare disdetta a uno a tre o a tutte quante lo potrà fare e le aziende devono pagare l'indennità? certo dopo aver conseguito la pensione Imso e Nasarco quindi lo ripetiamo dopo aver conseguito la pensione si può scrivere alle aziende dicendo voglio sciogliere naturalmente ragionando sul previso quindi ho capito avevo capito male quindi io posso toglierne tre non perdere nessuna indennità nel momento stesso in cui toglie il previso e continuare a lavorare con due sì certo ok mentre invece nel caso in cui ci siano proposte oscene ma che penso se l'ha detto è perché comunque succede lascio il mandato a tuo figlio perché tu non mi chiedi le indennità che consiglio diamo in questo caso di trattare di trattare magari concedere uno sconto sull'indennità e far assumere il mandato dal figlio dal parente da chi volete voi fermo restando che potrebbe esserci il caso per esempio che con me all'epoca fece mio papà con un mandato che aveva prima avuto lui e che poi ho avuto io perché lui non voleva più vendere quell'azienda c'è stata una soluzione di continuità cioè nel senso che l'azienda ha detto passiamo il mandato da Ricci Perluigi a Davide Ricci e con e le indennità rimangono e verranno pagate a Davide nel momento stesso in cui quella è una cessione di contratto cioè si può anche procedere con una cessione del contratto di agenzia quindi l'agente anziano cede il contratto di agenzia all'agente giovane con il consenso del preponente quindi tutto prosegue naturalmente e l'agente giovane percepirà anche l'indenità su quello che è stato il periodo lavorato dall'agente anziano altra cosa ricordiamolo le agenzie società di persone maggior ragione i capitali non vanno in pensione quindi gli agenti che sono che lavorano in forma societaria non è che avendo raggiunto la pensione possono dare disdetta attenzione le società non vanno in pensione è vero quindi allora vado avanti perché sono tantissime le domande già chiedo scusa a tutti i nostri ascoltatori le domande che non riuscirò a leggere faremo un'altra puntata su questi punti allora parliamo di Pietro in caso di morte della gente perché ci sono tanti argomenti interessanti in caso di morte della gente con contratto in essere da 20 anni che indennità matura e a chi spettano queste indennità grazie Pietro agli eredi e le indennità sono sempre le stesse possono essere le indennità collettive quindi fir, clientele meritocratico oppure l'indennità di legge bisogna esaminare bisogna ragionare su quelli che sono stati i numeri e lo sviluppo del rapporto allora domanda due ascoltatori ma quando fate la prossima puntata la facciamo la settimana prossima argomento simile se non uguale che dice così lo diciamo subito al volo senza mandare un whatsapp ho mai deciso qualcosa io sempre lei è il padrone qui avvocato non faccia quella faccetta no la corteggio un po' si la facciamo la facciamo prossima settimana la facciamo magari facciamo dire anche l'avvocato con la Paoli ce lo vogliamo l'avvocato con la Paoli lo facciamo intervenire se non va a Torino al lavoro a fare le cause a Torino è andata a vedere la partita è andata a vedere la partita allora quindi prossima settimana rifacciamo una puntata con questo argomento leggiamo subito così se volete essere avvisati whatsapp 329-672-5562 allora Alex ci dice buongiorno io ho un problema fisico non riesco più a fare il mio lavoro quali sono le basi per prendere il trattamento di fine rapporto per malattia ritorniamo all'articolo 1751 se è confermata da ovviamente certificazioni mediche l'impossibilità di svolgimento della prestazione agenziale si scrive si parla con l'azienda mandante gli si spiega gli si spiegano le ragioni per le quali il rapporto deve purtroppo cessare e si concorderà con l'azienda anche il trattamento di fine rapporto quindi il pagamento dell'indenità ma naturalmente ci vuole certificazione medica che ci dica comprovante certo che non può essere svolta l'attività promozionale sì un altro piccolo consiglio ad Alex tieni presente che il mondo degli agenti è un mondo distretto quindi quelle che possono essere delle motivazioni che per un altro lavoro magari consentono di lavorare potrebbero non esserlo per il lavoro dell'agente di commercio quindi fatti seguire da qualcuno preparato su questa cosa perché non è detto che un agente di commercio possa lavorare con un tipo di invalidità mentre invece possa invece farlo con un altro tipo di invalidità quindi Alex quindi approfondisci sempre molto bene Teo ho un contratto plurimandatario senza esclusiva a tempo indeterminato senza esclusiva indeterminato dal 2003 con patto di non concorrenza e senza possibilità di avere altre ditte inserito tra le cause del diritto di esclusiva per la sola mandante vorrebbero propormi la possibilità di avere altre aziende e solo una variazione contrattuale mantenendo in essere il contratto oppure il mandato va chiuso e riaperto nuovo da oggi perdendo il diritto all'identità clientela maturata in 18 anni no un po' difficile domanda difficile vediamo se riesce se hanno intenzione di modificare il contratto scriveranno quelle che sono le modifiche a cui vogliono a cui aspirano lo scriveranno se invece è impedita la solitamente è il contrario ma vuole far prendere altre aziende di un gruppo del gruppo dello stesso gruppo o completamente altre aziende perché magari mi viene in mente che l'azienda voglia cambiare da mono in pluri e questo dovrebbe essere una cosa gradita allora diciamo te un consiglio così sempre dalla strada insomma vicino al marciapiede dell'avvocato Bianchi ci vado anche io se la richiesta viene da loro giocatela nel senso che eventualmente dai la tua disponibilità magari facendo di liquidare tutte quelle che sono le indennità perché come ricorda anzi lo farò dire all'avvocato Bianchi le indennità sono sì un diritto ma non acquisito diventerà tale no è un'aspettativa è un'aspettativa ok grazie prego l'unica cosa a cui bisogna fare attenzione e va ricordata a tutti è che la cessazione consensuale del rapporto di agenzia non fa scattare il diritto indennitario quindi se loro concordano la chiusura dice che facciamo chiudiamo il vecchio e ne facciamo uno nuovo sì attenzione a quello che scrivete perché se concordate la chiusura del vecchio può essere che dall'altra parte dicono abbiamo concordato la chiusura quindi non ti dobbiamo pagare alcune indennità allora torno a bomba sul tema della puntata questa cosa concordata non ha nulla a che vedere con il contratto a tempo determinato concordamente firmato quindi la cessazione successiva consensuale non dà diritto all'indennità ma un contratto a tempo determinato sì perché quando c'è consensualità di chiusura manca il presupposto determinante che è l'iniziativa del preponente nella cessazione del rapporto quindi non sussistendo più l'iniziativa non sorge il diritto indennitario quindi attenzione quando ragionate su queste cose e presumo sia legato anche il preavviso cioè uno ci si mette d'accordo in quel caso il preavviso può essere derogato concordamente allora Sabino c'è un tempo per legge per la liquidazione dell'indennità clientela considerando che sono stato disdettato dalla ditta circa un anno fa e sto maturando ancora delle provvigioni devo aspettare la fine delle provvigioni la scusa questa delle scuse che hanno le aziende attenzione adesso come dirà Sabino l'avvocato Bianchi perché se siamo vicini a un anno potrebbe essere un problema eh sì perché l'indennità di legge è un diritto che decade trascorso un anno dalla cessazione del rapporto se non lo si è ehm reclamato quindi entro un anno dalla chiusura del rapporto va reclamata l'indennità di legge le indennità collettive invece non sono soggette a decadenza sono soggette esclusivamente a prescrizione decennale quindi vanno eh richieste e ricevute entro dieci anni se non sono il che è un termine piuttosto ampio se non sono state reclamate nell'arco di dieci anni fatelo o siete ricchi o al volo sabino se non l'hai fatto interrompi direttamente il periodo di un anno cioè fai una comunicazione ufficiale che possa un domani essere utilizzata per dire signori pagatemi le indennità la faccio semplice affinché si possa dimostrare che tu le hai richieste lascia che sia l'azienda a dire ma stiamo ancora finendo gli ordini poi vediamo poi facciamo richiedile è corretto il consiglio avvocato Bianchi sì anche se c'è il FIR bisogna vedere se è stato versato il FIR perché il FIR potrebbe impedire la decadenza allora ci siamo siamo in chiusura io saluto Tiziano Cenciarelli Marco Potetti Francesca Sacco Valeria Vezzani l'avvocato Lorenzo Bianchi grazie l'avvocato Valerio Colapauli che da Torino ci seguirà sicuramente vedrà il podcast e Davide Ricci in conduzione allora il quizetto e poi dopo un'ultima considerazione che fa Daniele un nostro ascoltatore il vincitore del quizetto la domanda era quanto tempo può durare una sospensione massima del contratto di agenzia avete risposto in molti devo dire il vincitore del quizetto è Michele con il numero di cellulare che finisce con 703 durata massima della sospensione è 6 mesi avvocato Bianchi conferma che è 6 mesi? 6 ah ok non si sa mai insomma perché di solito qualcuno ha detto 36 qualcuno ha detto 12 36 mesi eh sì di sospensione senza disdette è stato Fabio vabbè ho capito avvocato 36 mesi sono 3 anni di sospensione e vabbè è bello che ne voglio dire non è che tutti per forza adesso lo sa anche Fabio la tazza Michele 703 finale voglio chiudere questa puntata con Daniele rispetto a quello che dice che le società non vanno in pensione Daniele ci dice giusto le società non vanno in pensione ma nei miei contratti c'è sempre richiamato il rapporto fiduciario con la persona fisica intuito a persona ai 10 secondi vogliamo dire qualcosa incide o non incide dipende tendenzialmente no perché la persona giuridica non va in pensione anche se c'è una pronuncia della Cassazione simpatica ma magari ne parleremo un'altra volta una prossima puntata prossima settimana va bene ciao a tutti passione per la ciao a tutti ciao a tutti